Dire che qua c'è tutta la comunità, qui c'è la destra, qui c'è la sinistra, qui c'è il centro, voi siete qui però non come schieramento, voi siete qui come papà e mamme, siete qui come uomini e donne che lasceranno questo pianeta a dire già dopo noi. Fermi, silenzio un attimo, silenzio un attimo, silenzio un attimo, il ex sindaco Elio Baldi ha detto al quotidiano della Repubblica che la città di Parma oggi è nelle mani di una banda, il senso spregiativo, il senso spregiativo. Noi dobbiamo dimostrare con l'educazione all'ex sindaco Elio Baldi che qui non c'è una banda in senso spregiativo, qua ci sono i padri e le madri di Parma. Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Oh, èhisti. Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Grazie.